Finale torneo calcio a 5, 24 ore di Vigolzone, disputata al campo sportivo di Vigolzone tra BM Everniciatura e La Torrina e Salso Minore. I campioni uscenti di Salso Minore in maglia azzurra si schierano con Agogliati, Bazzini, Minasola, Raggi, Riceputi, Silva e Terret. Risponde BM Everniciatura e La Torrina in maglia blu e gialla con Agazzi, Carolfi, Castagnetti, Dardes, Fogliazza, Maggi, Mosca, Rabizzoni, Rossi, Segalini e Scrivani. Parte forte BME con Maggi che impegna subito Bazzini alla respinta in corner. Vantaggio BME con Segalini che di sinistro trova l'incorcio opposto dopo aver saltato il diretto avversario. Pareggio di Salso Minore con Minasola che appena dopo centrocampo batte Dardes con un gran destro. Ritorna in vantaggio BME con Maggi che si gira di destro e firma il 2-1. Rilancio lungo di Dardes per Maggi, appoggia a Segalini che sigla il 3-1. Altro rinvio lungo di Dardes, Riceputi cerca l'anticipo ma la palla arriva a Segalini che dopo un 1-2 con Maggi sigla il 4-1. Accorcia le distanze Raggi che di sinistro batte Dardes per il 4-2. Rilancio con le mani di Dardes e Maggi dopo aver difeso palla e mezza girata firma il 5-2. Ruba palla Minasola che sigla il 5-3. Raggi con un doppio passo salta il diretto avversario e trova l'angolino basso per il gol del 5-4. Gran gol poi di Raggi che riceve palla a spalla alla porta e in girata trova il pareggio. Minasola di destro da posizione defilata, batte Dardes sul primo palo, sorpasso salso minore che per la prima volta dell'inizio partita si trova in vantaggio. Ancora salso minore, Terret riceve spalla alla porta, riesce a girarsi, a battere di destro Dardes per il doppio vantaggio. Gran palla poi in scavetto di Terret per Riceputi che con un controllo al volo elude l'intervento dell'avversario che posi terretto il pallone che vale l'8-5 dopo aver saltato anche il portiere. Lancio poi di Terret per Minasola che di prima intenzione trova l'angolino basso e fissa il risultato sul definitivo 9-5. Salso minore per il secondo anno consecutivo si conferma campione delle 24 ore di Vigolzone.